Io ho raccomandato i docenti, ne ho parlato anche ieri in senato accademico, a stare molto attenti e salvaguardare gli interessi degli studenti innanzitutto. Gli studenti non sono una nostra controparte, ma noi forniamo a loro dei servizi, ma soprattutto contribuiamo alla loro formazione e quindi dobbiamo stare attenti nel fornire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro formazione e per la loro carriera. Quindi non dobbiamo ostacolare gli studenti negli esami, nella laurea e in tutto ciò che sono i servizi a loro destinati. La protesta è sacrosanta, ognuno ha il diritto di manifestare contro leggi che ritiene non siano giuste o che intaccano i propri diritti. Effettivamente l'università sta vivendo un momento molto difficile, i tagli sono pesanti, mettono a rischio il funzionamento delle università, di tutte le università italiane. E' quindi giusto far sentire la propria voce, però questo non deve essere una voce contro o a danno degli studenti. I ricercatori hanno annunciato una protesta d'oltranza, come pensa di agire nel caso questo accadesse davvero? Io penso che ci siano dei profili anche di legittimità. E' necessario che si facciano gli esami, non si può interrompere un servizio pubblico. Su questo io ho già avvisato i presidi, ho avvisato anche i docenti, quindi i diritti degli studenti non saranno lesi.